Io rimango sempre più stupito e apprendo da quello che lui ogni giorno ci fa capire attraverso le sue esternazioni, attraverso i suoi commenti, le sue interviste. Cioè questo equilibrio impressionante di un ragazzo che a soli 22 anni ha già fatto dei risultati importantissimi, non è il più giovane di tutti i tempi che ha fatto questo genere di risultati, però li fa, secondo la mia opinione, con un equilibrio che io non ho mai visto fare quasi a nessuno, forse solamente a un certo Bjorn Borg tanti anni fa e a un Roger Federer, se vogliamo in termini cronologici, vicino agli anni. Cioè un giocatore, una persona che fa del suo mantra il miglioramento continuo, l'equilibrio, la tranquillità, la posatezza, non essere mai eccessivo né nel momento in cui viene attaccato in alcuni casi, né nel momento in cui vince. Quindi veramente qualcosa di, secondo me, di unico da questo punto di vista. Quindi veramente a me affascina questa cosa moltissimo e sono felicissimo di poter chiaramente poi seguire tutti i risultati che sono ovviamente fantastici, però questa è la cosa che mi colpisce di più.